Ave Maria, grazie a te e a te, nobino spirito, ave Maria. Benvenuti a tutti i carissimi telespettatori di Maria Vision che ci stanno seguendo in questa nuova puntata della rubrica Testimonianze. Sono Sabina Braschi e questa sera voglio affidarmi veramente al nostro Signore per una trasmissione che ha dello storico, del devozionale ma anche dell'artistico. Perché parleremo di un crocifisso probabilmente poco noto nel territorio e quindi anche in Italia per chi ci segue dalle altre regioni italiane. È un crocifisso che è stato costruito intorno al 1600 da Fra, umile da Petralia, nella sua età giovanile, insomma intorno al 1625. Oggi finalmente restaurato, quindi ritornato ai suoi antichi bagliori ma che effettivamente non è conosciuto neppure da noi che siamo di questo territorio. Pertanto voglio presentarvi coloro i quali ci danno la possibilità oggi di approfondire una delle opere d'arti probabilmente più significative del 1600 che ha proprio sede qui nel territorio del Trapanese. E mi affido subito alla presenza illustre di Don Nicola Patti che è qui a fianco a me, che è l'arciprete della Chiesa Madre di Campobello di Mazzara dove il crocifisso è conservato. E grazie per essere qui con noi Don Nicola. Buonasera. Buonasera. Ma non solo a lui, prima di parlare con lui voglio presentarvi il resto delle persone che oggi sono venute a trovarci qui negli studi di Maria Vision per approfondire appunto questo argomento. E in particolare incomincerei proprio dalla mia destra con chi ha curato i lavori di restauro e cioè il restauratore Gaetano Correnti. Grazie per essere qui con noi. Grazie a tutti. Iniziamo subito con Don Nicola Patti. Grazie. Io affonderei proprio le radici alla storia. Di cosa stiamo parlando? Bene, stiamo parlando di questo crocifisso che nell'ultimo anno è stato oggetto di un importante restauro che l'ha portato al suo splendore artistico e dunque storico. Stiamo parlando di un crocifisso che è il segno e il simbolo della nostra città di Campobello poiché dono del duca fondatore della nostra città, Giuseppe di Napoli Barresi. Effettivamente fu donato dal nipote nel 1666 perché il nonno aveva fondato il paese nel 1621 con la licenza Populandi. E quindi volevo proprio leggere e mostrare soprattutto il documento storico che si trova nell'archivio della Chiesa Madre di Campobello a margine di uno dei liber mortuorum. troviamo questa pagina dove si legge Oggi, mercoledì 19 maggio 1666, ribau la santissima immagine del santissimo crocifisso mandato da Palermo dall'eccellentissimo e illustrissimo Giuseppe Napoli et Barresi, principe di Resuttano, duca di questa terra di Campobello, la quale immagine dicessi essere fatta nella chiesa dei padri zucculanti di Sant'Antonio di Palermo da Fraumura da Petralia, il quale frase ebbe odore di santità e così via. Mentre stiamo vedendo le immagini anche della Chiesa Madre dove appunto conservate il crocifisso vorrei che la regia ci riportasse in studio per fare vedere, mi commuovo sempre quando vedo questi manoscritti così antichi, io ho una predilizione alla commozione per la storia, quindi ecco guardate un manoscritto che età ha questo manoscritto? È del 1666, ben conservato dove già si può evincere quindi la radice storica del crocifisso di cui stiamo parlando. Il crocifisso come si diceva è degli anni venti con tutta probabilità, arriva a Campobello nel 1666 come dono appunto del duca per così fare omaggio alla comunità ecclesiale di questa splendida immagine che segna poi la devozione fondamentale è la religiosità della nostra comunità da sempre, è proprio il simbolo religioso per eccellenza. Quindi qualche anno fa, nel 2016, abbiamo avuto la bellissima coincidenza tra l'anno santo della Messericordia, 2016, e il 350esimo della donazione di questo crocifisso alla comunità. Ed è partito da lì proprio l'idea, il desiderio della comunità di avviare il restauro. Non a caso noi abbiamo messo come simbolo di questa trasmissione il simbolo dell'anno della Misericordia che proprio mi sta alle scalle. Sì, sì, e da lì c'è stato tutto un itinerario che davvero ci ha portato a questo splendido risultato e di cui siamo molto emozionati e grati, anzitutto al Signore, ecco a Lui stesso. Immagino, stiamo vedendo delle immagini, allora io passo subito la parola al restauratore perché qui parliamo di immagini di un'opera artistica appunto già restaurata. Mi piacerebbe invece capire che cosa e qual è il lavoro che l'ha portata a questo splendore odierno. Intanto volevo precisare che il restauro è stato autorizzato dalla curia di Mazzara del Vallo e poi dalla soprintendenza dei beni culturali di Trapani, seguito molto diligentemente dalla soprintendenza, dalla dottore Figuccia insieme ad altri tecnici, e dalla soprintendenza che al primo saggio di pulitura sono rimasti stupiti della bellezza che presentava il crocifisso sotto questi spessori e questi strati di olio di noci, di spessori di sandracche, di pece. Per cui il Cristo era completamente avvinghiato, sepolto sotto questa coltre di nerume e sotto ha rivelato un colore straordinario col sanguinamento. Il Cristo era, diciamo, in buonissime condizioni sotto, tranne un'aggressione di insetti, xlofagi che avevano penetrato all'interno del ceppo scultorio dalla testa, perché dove era legato un'aureola antica, quindi hanno avuto questo ingresso dall'esterno e hanno scavato a cunicoli il ceppo scultorio. Però non hanno gradito sicuramente il pigmento, il colore e lo stucco, per cui il Cristo esternamente era quasi integro rispetto alla parte interna del legno che era di tiglio, tipico legno che usava Frate Umile nelle sue sculture. Il Cristo si presentava in maniera proprio incredibile, perché era annerito completamente da strati di olio di noci, di vernici ossidate, per cui aveva questa superficie nera che faceva rivelare né la cromia del pigmento originale, né il sanguinamento che è tipico delle sculture di Frate Umile, che doveva impressionare lo spettatore, cioè farlo partecipare al dramma della passione, con tutto questo sanguinamento, con le vergate, con le frustate, per cui questo Cristo rivela proprio tutte le piaghe della passione. Ed è bellissimo perché mano a mano che scorriamo con le fotografie, guardate il saggio di pulitura, che è il primo che si è praticato sul Cristo, guardate la mezza faccia annerita e la mezza faccia pulita, guardate che meraviglia viene fuori, addirittura la lingua, i denti, che prima erano accecati da questo annerimento della superficie pittorica. Vi faccio vedere il Cristo dopo il restauro, che è straordinario, e che è quasi, guardate l'espressione, ma anche la pulitura, che cosa ha rivelato, i capelli che sono stati svuotati da questi strati di cera, di nerume. Ecco, qui lo vediamo anche nella sua forma integrale, così come è nella Chiesa Madre. Intanto sono state fatte delle indagini preliminari su questo crocifisso, delle indagini anche di luce radente, di ultravioletti, per vedere lo stato di conservazione sia del pigmento che della struttura linea. Quindi questo ci ha consentito di capire le essenze linee, il modo con cui il decoratore, che sicuramente era un decoratore bravissimo, ha cercato di dare questa immagine così, guardate, con tutte le piaghe, con tutto il sapore della passione. Quindi questo ci ha permesso di intuire i solventi e i materiali da usare per portare a termine questa pulitura, che era alquanto delicata e laboriosa. Devo dire, dalle immagini, almeno del volto, la vorrei riproporre questa immagine, un volto restaurato. Non si evince la sofferenza? La faccia a lei, Don Nicola, questa domanda. In effetti i volti sono poi il centro di queste opere di Fraumile, che anzitutto sono anche delle opere teologiche, che rispondono proprio a una teologia, a una sensibilità, a un'esperienza di fede. C'è quasi un riposo, più che la sofferenza della crocifissione. Esattamente. Diciamo, dal punto di vista di osservazione, emerge ora la sofferenza, ora il dolore, che demane comunque sempre nella sua compostezza, che in un dolore che non travalica il senso della compostezza, che il crocifisso in sé racchiude. E c'è anche l'anelito proprio della speranza, dunque quasi un sorriso, come una consegna nelle mani del padre. Padre, nelle tue mani consegna il mio spirito. Ecco, sono proprio una catechesi, i crocifissi di Fraumile da Petralia. Come diceva poc'anzi Gaetano Corrente... Lei parla al plurale, perché? Ce ne sono altri esempi? Sono diversi i crocifissi di Fraumile da Petralia, e poi siamo in quella Sicilia secentesca, l'ispanida, quindi la sensibilità spagnola, i dettami della controriforma, e quindi in qualche modo questi crocifissi proprio vogliono essere un'opera di evangelizzazione. Assolutamente. E poi ricordano esattamente quello che lei diceva, Don Nicola, l'idea di una artisticità spagnola, così come lo vediamo nei misteri, per esempio, pasquali, insomma, del periodo pasquale, o in genere nelle processioni. Sì, erano dei crocifissi che avevano, diciamo, nella rappresentazione la partecipazione dello spettatore al dramma di questa passione, per cui tutto lo sgocciolamento del sangue, se voi vedete rifinito nei minimi dettagli, c'è addirittura dietro la schiena, guardate tutte le vergate, il sangue che scorre proprio anche da dietro, e poi la finezza di questo crocifisso che è precedente ad altri crocifissi di Fra Teumile, che sono un poco più grandi anche di proporzione, per cui lo scultore, ma anche il decoratore, una finezza che ho notato in 35 anni di restauro che faccio, per esempio, sono i peli sotto le ascelle, che non ho ritrovato in nessun altro crocifisso, invece qua anche la finezza di finire questi particolari nel dettaglio. Guardate la bellezza in queste immagini anche del perizoma dorato, a oro zecchino, o guardate la finezza anche di tutti questi rivoli di sangue che scendono in maniera raffinatissima. E l'altra cosa che è straordinaria è il colore dell'incarnato, che è proprio l'incarnato di una persona che è sofferente, che già è vicino alla morte, con il lividoso, con questo colore proprio che ha questa essenza di verdogno, di predominanza. Quanto tempo per questo restauro? Un restauro lungo, è durato quasi un anno. Ed è stato anche misterioso, vorrei dirlo qua davanti a tutti, che io sono andato a Campobello per fare un altro restauro, invece forse il signore ha voluto che questo restauro andasse in porto in maniera così disinteressata. Ci siamo entusiasmati con il parroco, con i devoti e invece è venuto fuori una cosa straordinaria che la gente ha apprezzato perché è vero questo è un'opera raffinatissima di grande qualità. È stato lungo il restauro, molto laborioso, molto fiscale, per cui io, siccome c'è la soprintendenza anche che segue, però alcune volte il tecnico ha quella, come dire, quella responsabilità davanti a un'opera d'arte di curarla in maniera di non farsi prendere la mano perché tutto è scientifico, tutto va fatto in maniera reversibile e che l'opera viene riportata il più possibile alla sua condizione originale. Lei è un restauratore che lo ha visto con l'occhio laico o con l'occhio del credente? E' emozionante tutto questo perché poi quando io vedo la gente che si emoziona davanti a un'opera restaurata è veramente una cosa molto emozionante anche la responsabilità grande che un restauratore ha davanti a un popolo intero di non farsi prendere la mano di rispettare l'autore e anche il fatto di portare l'opera veramente al suo splendore senza mai eccedere o mai andare a interrompere quel filo bellissimo che c'è tra la devozione e l'opera. Abbiamo altre immagini da vedere? Sì abbiamo altre immagini per esempio volevo farvi vedere il Cristo per intero che guardate questi saggi di pulitura guardate questo saggio sul petto che già rivela di per sé quello che sotto noi abbiamo trovato e guardi l'opera restaurata che mette in evidenza proprio questo carnicino bellissimo con questo sangue che è straordinario. Devo dire molto molto efficace proprio verosimile Era lo spirito della controriforma tant'è che questo impressionava lo spettatore lo faceva partecipare al dramma ma questo è lo spirito di Frate Umile che certi ce ne sono 33 di grandezza naturale ma questo devo dire c'è questo enorme enorme filo che lega Frate Umile prima di quella fase matura quindi ancora più legato a finezze particolari mentre negli altri più spigliato più aperto dal punto di vista scultorio ma anche del fatto del sanguinamento eccetera era molto più drammatico questo ha una finezza è anche un un misticismo anche questa morte serena questo fatto che non sta soffrendo è come se stesse addormentando quindi questo ci fa capire anche come dire la passione in maniera consapevole la consapevolezza del Cristo abbiamo detto che Frate Umile ha diciamo creato realizzato più crocifissi però è morto in età giovane è morto giovanissimo quindi è stato un talento giovanile sono 33 che per un artista diciamo sono delle opere che in quegli anni è morto nel 1639 quindi aveva nel 1601 quindi è morto giovanissimo l'ultimo che lui ha scolpito è sulla tomba a Sant'Antonino sulla sua tomba ed è l'ultimo ho restaurato io questo ultimo che è straordinario e lo finì 15 giorni prima di morire e il tipico segno di Frate Umile era questa spina che attraversava il sopracciglio e usciva dall'occhio questo perché lui aveva un cancro al cervello e gli provocava questo enorme dolore che lui trasferiva in quest'opera quindi se noi vediamo i Cristi quelli diciamo più maturi avevano questa spina che attraversava l'occhio e che usciva dal corpo volare questo era un segno della sofferenza anche di Frate Umile che trasferiva nelle opere sue assolutamente interessante in effetti quella parola prima meditata accolta nel cuore diventa poi non un sermone ma nel caso di Frate Umile diventa un'opera d'arte diventa scultura quelle ginocchia sono piegate su un legno su un ceppo di legno e piano piano esce fuori l'opera è un'esperienza proprio di preghiera di ascesi di penitenza d'altro canto proprio i francescani saranno quelli che dopo il concilio di Trento cercheranno di mettere in pratica le direttive del Papa nel portare avanti questo tipo anche di sculture certo la comunità parrocchiale lo chiediamo a chi lo rappresenta quindi al dottorenzo la rosa so che ha partecipato e ha partecipato anche attivamente e anche economicamente certamente la comunità parrocchiale molto legata a questo suo crocifisso diciamolo così questo suo crocifisso ha partecipato vivamente ma dobbiamo dire ringraziare per il contributo perché ovviamente è stato un impegno finanziario notevole per il periodo il tempo che ha richiesto per il suo restauro e per la qualità del restauro e sono intervenuti ma proprio in maniera in maniera così diciamo anche per grazia è un miracolo è stato quello che un 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 club service il Lion Club di Fata Morgana di Mazzara che animato da questo spirito di fare da ridare al territorio il suo crocifisso nello splendore della sua storia e della sua bellezza che ha iniziato questo lavoro ma non dobbiamo togliere merito anzi bisogna darne grandissimo merito al nostro sindaco al ragioniere Giuseppe Castiglione con tutta l'amministrazione comunale che con grandissima sensibilità e senso del dovere e dell'appartenenza al territorio ha voluto contribuire in maniera affattiva al restauro del suo del suo crocifisso e torno a dire del suo di tutti di tutta la collettività bello questo senso di appartenenza che spesso dimentichiamo nel mondo in cui viviamo dove è tutto globalizzato e siamo tutti uguali invece è molto bello questo senso di appartenenza è un'appartenenza che coinvolge anche le nuove generazioni all'interno della parrocchia e questo è molto bello perché anche lì le famiglie si aggregano e si va avanti certo senso di appartenenza io lo chiederei anche al dottor Sebastiano Maggio presidente regionale dell'AGE l'associazione genitori italiana per la regione Sicilia perché perché anche voi in qualità di famiglie rappresentate la famiglia lei come presidente regionale cura tutte le dinamiche che riguardano le problematiche della famiglia e quindi anche le strategie per poter vincere e combattere quello che è l'attacco come oggi viene detto alla cellula principale della comunità cristiana che è proprio la famiglia e so che state lavorando quindi questo senso di appartenenza lo sentite tantissimo anche per affidare questa famiglia e tutti i progetti che riguardano l'AGE a questo crocifisso e allora io ringrazio intanto il nostro acciprete Don Nicola Don Nicola Patti per avermi dato l'opportunità di partecipare a questa a questa trasmissione perché io sono molto legato come tutti del resto siamo tutti legati al Santissimo crocifisso che è l'emblema principale della nostra comunità anche se io vivo ormai da 52 anni a Palermo ma io sono sempre legato a Campobello sono sempre legato alla comunità poi va detto con molta onestà che a Campobello c'è una bellissima associazione l'AGE fatta da diecine e diecine di persone di genitori per cui io sono particolarmente contento e sono felice di questa opportunità perché vedete è chiaro che oggi come oggi lei diceva una cosa sacrosanta la famiglia sceglie la primaria del nostro di un paese ma oggi la famiglia purtroppo sta vivendo momenti difficili momenti oggi come oggi non c'è più la famiglia i giovani cominciano a sposarsi di meno non hanno quell'entusiasmo che avevano prima entrano in chiesa raramente questo è tutto quanto ci crea grosse preoccupazioni e allora perché non dicevamo con Don Nicola mettere in campo delle strategie in modo tale che a un certo punto noi facciamo quello che possiamo ma affidiamo a lui al Santissimo Crucifisso perché poi è lui quello che determina il tutto noi facciamo la nostra parte perché è giusto che noi facciamo la nostra parte ma deve essere lui a dare soprattutto alle giovani generazioni alle famiglie quella sacralità quella unione che purtroppo oggi come oggi viene a mancare e allora qual è il sistema io non conosco altro che un solo sistema mi hanno insegnato i miei padri spirituali nel corso della mia vita mi hanno sempre detto una sola cosa c'è un solo paniere c'è un solo la preghiera che è potente quindi dobbiamo pregare dobbiamo pregare dobbiamo pregare per la famiglia Don Nicola abbiamo la necessità di pregare quindi mettiamo in campo tutte quelle strategie che noi dobbiamo soprattutto rivolgendoci alle nuove generazioni quindi è importante questo io colgo l'occasione per rinnovare a lei questo invito lo rinnovo anche al rappresentante della comunità all'amico Enzo Larrosa perché è opportuno è importante noi abbiamo avuto il piacere di guardare questo capolavoro perché di questo si tratta perché vedete il lavoro egregio fatto dall'amico Correnti è veramente qualcosa di eccezionale io l'avevo visto prima l'avevo visto lo scorso anno ma vedendolo ora obiettivamente un passo di qualità eccezionale lui non ha fatto perché ha avuto l'onestà di dire che l'opera era integra ecco ma è chiaro che il restauro che sono succeduto nel tempo è chiaro che non sono stati brillanti ma qui noi vediamo che siamo in presenza di una grande di una grande opera e allora il Signore ecco attraverso questo crocifisso che quando passa per le strade di Campobello nella processione del 29 settembre possa illuminare illuminare attenzione qui chi vi parla è un grande peccatore non pensate che io sia una persona assolutamente come tutti Dottor Maggio è certo però dico ecco però che il Signore ci illumini che protegga e salvi la famiglia assolutamente Maria Visione si mette in questo senso a disposizione anche per creare delle o delle rubriche delle comunità che invitano alla preghiera o addirittura pregare insieme questo fa Maria Visione ed è una televisione che vede proprio nella famiglia l'attacco principale del male così come il Papa e tutte le pastorali che riguardano la famiglia ci invitano proprio a tutelare e a difendere volevo dire che dalle immagini avete visto più volte la cosiddetta vara su cui è collocato il Santissimo Crucifisso questa è di epoca successiva metà ottocento quindi la ciprieta dell'epoca ha dato via questa processione prima invece il Crucifisso aveva una cappella linea sulla navata destra dell'attuale Chiesa Madre voglio anche ringraziare il nostro Vescovo Monsignor Domenico Mogavaro Vescovo di Mazzara perché quest'anno l'ultima domenica di settembre verrà a presiedere la celebrazione eucalistica nella festa del Santissimo Crucifisso ci ha molto incoraggiato in questo ordinario di restauro ogni ultima domenica di settembre c'è la festa del Santissimo Crucifisso e soprattutto quest'anno il Vescovo viene a presiedere perché è un anno speciale per la comunità bene e la strategia di cui parla il Dottor Maggio che è una strategia che invito veramente a riflettere di difesa per la famiglia e di difesa attraverso la preghiera la potenza della preghiera è incredibile io ci credo per cui condivide appieno immagino Don Nicola che con questo Crucifisso restaurato che dà un nuovo vigore una nuova linfa per noi è un momento veramente di ripartenza nell'evangelizzazione nella conversione nell'annuncio della fede perché il Crucifisso in sé dicevo poc'anzi è proprio una narrazione iconografica della passione morte e risurrezione del Signore è un kerigma il Crucifisso è il kerigma questo è importante da e come diceva poc'anzi il restauratore tutto quello che c'è nel Crucifisso appunto si rispecchia la controriforma il Concello di Trento la Sicilia secentesca la sensibilità spagnola non sono una dilatazione iconologica diciamo un'esagerazione perché in effetti come dice il Salmo davanti a lui si copre il volto il nostro Signore era diciamo in condizione peggiore di quello che noi lo possiamo rappresentare con i Crucifissi e dunque scorticature lividure percorse non sono un esagerare da parte di Fra Umile ma entrare in profondità nella passione del nostro Signore ma già facendo vedere l'annuncio pasquale la luce della risurrezione che anche nei Crucifissi emerge perché come si diceva poc'anzi è veramente la luce pasquale quella serenità che traspare da certe inquadrature da certe angolature del volto del Crucifisso c'è la morte c'è l'agonia ma c'è anche il riposo nello spirito diciamo la consegna lo abbiamo visto proprio dalle immagini ritorno un attimo da Gaetano Correnti perché mi piacerebbe capire se nell'arco di quest'anno di lavoro comunque delle difficoltà oggettive sono state riscontrate sono state riscontrate tantissime difficoltà tant'è che il consolidare quest'opera comporta dei tempi lunghi per esempio consolidare l'interno con questa resina che si chiama paraloide a livello di consolidamento c'è della fibra del legno è una cosa molto molto delicata quindi ci ha permesso questo fatto di riempirlo e di dargli vigore a livello strutturale però io paragono sempre il restauro a livello devozionale perché è il superfluo che viene tolto è come il peccato che deve essere tolto e quindi tutto quello che è sovramesso deve essere tolto per rinascere per dare vigore e vivacità all'opera quindi il restauro è secondo me anche una forma di redenzione se lo volessimo vivere metaforicamente riportare in vita una architettura o in questo caso una icona artistica che comunque ha un valore devozionale religioso è come un po' ripulire anche la nostra anima è un po' come restaurare io lo paragono al peccato cioè toglierlo per purificarsi e quindi ridare veramente quella bellezza che è la bellezza che ci salva per cui un'opera quando esce fuori una cosa così bella uno già è veramente mezzo salvo allora tanta fatica tanti problemi che poi però vengono ripagati è tipico del restauro c'è questo che è la soddisfazione di vedere una cosa rinata rinata non perché deve essere necessariamente riportata all'originale perché deve avere il suo sapore il tempo che è trascorso che dà fascino all'opera e che non va toccato certo vediamo altre immagini nel frattempo perché vedo che diamo questa che è bellissima e questo è il Cristo prima del guardate la differenza di queste due cose c'è veramente incredibile c'è purificare proprio un oggetto è un'opera che manteniamo ancora così così vediamo la differenza con lo zoom della telecamera guardate il saggio di pulitura al centro del petto è intatto cioè nel senso sia la cromia sia il sanguinamento è intatto perché la bellezza di ritrovare il pigmento il colore intatto è bellissimo perché a volte molte opere sono state irreversibilmente danneggiate invece questa è stata solamente protetta per motivi di diciamo di dargli quantomeno vigore in questi secoli con olio di noci con e poi il fumo la polvere prima c'era la cera gialla che affumicava moltissimo per cui questo penso che nella vara doveva avere le candele a cera e quindi questo fumo dei ceri devozionali imprigionava proprio l'immagine non è tantissimi crocifissi sono anneriti da questa da questo da questo fumo dei ceri ma anche dalla polvere dalle vernici ossidate abbiamo qualche altro qualche altro dettaglio qualche altro particolare per esempio il dietro che è incredibile guardate questo saggio di pulitura che mette in evidenza le vergate le vergate e tutti i segni della passione guardate dopo la pulitura che cosa è venuto fuori è intatto se voi vedete sotto è intatto dal punto di vista decorativo è intatto effettivamente la differenza è veramente notevole è incredibile è una cosa che è come se fosse stato tolto un velo oscurante sopra questa meraviglia e poi le proporzioni il costato guardate che meraviglia anche questo ventre scavato queste ginocchia piegate che sono venute fuori anatomicamente in maniera prima era piatto invece c'ha questa vibrazione anche delle costole che prima non si leggevano in maniera e poi i capelli la finezza delle dita delle mani dei piedi è veramente un'opera molto curata molto bella io penso che questa veramente possa essere un'opera giovenile di frate umile che poi diventa trasformata dopo questo periodo di rappresentativo manierista che ha questo ancora schema manieristico poi diventa una maniera di rappresentare ancora con più esagerazione questo rispetta ancora dei canoni precedenti che sono quelli diciamo tardo rinascimentali e manieristi quindi ha questa finezza ancora del Cristo ancora legato a schemi precedenti che bello Don Nicola questo è un particolare che è molto interessante quello che ci dice Gaetano Correnti in effetti togliendo questo strato l'anatomia del crucifisso emerge molto di più sembrava più piatto quindi c'era già una bellezza profonda nel crucifisso ma adesso è veramente un momento forte di rapisce continua a rapire il devoto sono crucifissi in cui ci si ferma veramente a contemplare a pregare a livello devozionale o come pietà popolare che tipo di manifestazioni sono legate a questo crucifisso nel tempo ovviamente si è legato la novena che prepara la festa che consiste nella processione che viene svolta l'ultima domenica di settembre la processione in cui partecipa l'intero paese è una processione molto lunga in cosa consiste la processione la processione consiste che quella vara letteralmente esce dalla chiesa sebbene sia così grande sorretta da 50 uomini ma infatti mi sembra anche piuttosto alta così si è alta ma esce proprio dalla chiesa dal portone centrale questa facciata barocca della chiesa madre 50 uomini che la portano sì sì per uscirla dalla chiesa lei parlava di emozioni ma io per esempio mi emoziono tantissimo quando per esempio dopo aver restaurato un'opera che è una parte tecnica molto tecnica anche molto laboriosa molto tecnica anche a volte di scoraggiamenti perché un restauro quando è diciamo ad un certo livello può provocare anche degli scoraggiamenti perché non ci si sa come comportare anche perché il restauro non si può adottare come formula unica in tutte le cose ogni opera ha una sua essenza una sua differenza non c'è un metodo scientifico generale ma poi si adotta per ogni cosa in maniera diversa mi emoziona tanto quando per esempio vado per l'inaugurazione o dei restauri e poi va in processo quando la gente piange davanti alle opere questo mi mette cioè veramente in una maniera mi pongo in una maniera proprio di dire il rispetto delle cose le persone che chiedono le grazie questo fatto mi mette un poco di emozione in più nel vedere queste persone con gli occhi che gli brillano quando anche vengono in laboratorio a vederli per come si pongono la fede ha bisogno dell'icona perché secondo lei il fede ha bisogno dell'icona proprio fisica del crocifisso della madonna del santo e perché l'icona è pur sempre una narrazione una parola e viene dall'esperienza di fede di qualcuno che trasmette in questo caso su un ceppo di legno trasmette che cosa? trasmette la parola di Dio trasmette proprio l'esperienza di preghiera l'esperienza di salvezza l'esperienza della propria sofferenza l'esperienza di una storia che comunque viene visitata da Dio e quindi l'icona è un qualcosa di molto simbolico nel senso che mette insieme diversi aspetti e poi dà questa percezione del possesso esatto e poi e non stanca mai il nostro crocifisso puoi contemplare ogni giorno l'icona e ogni giorno ti dirà una cosa diversa di noi è la nostra noi a Trapani abbiamo la Madonna di Trapani che è la nostra Madonna ma così per tutti i paesi tutti i posti ciascuno ha la propria icona di riferimento a tal proposito il santissimo crocifisso di Campobello di Mazzara ha una preghiera ma guardi la preghiera nasce da una profonda emozione l'emozione del vedere quasi con commozione questo in questo legno la divinità che si manifesta al mondo e allora la preghiera che viene fuori da è una preghiera che nasce dal cuore nasce dalle emozioni nasce perché no dalla fede nasce da un un senso di appartenenza e allora così mi è venuto di rappresentare questa preghiera prego la preghiamo insieme la preghiamo insieme e diciamo così di fronte alla tua croce o Signore e alla potenza della tua resurrezione sono sempre tanto povero tanto mancante ti chiedo di imprimere nel mio cuore il tuo abbandono supremo perché in esso hai davvero manifestato Dio tu o Signore non ci hai voluto ingannare non hai voluto scendere dalla croce e con la tua preghiera è cominciato a sorgere intorno a te il regno del padre aiutaci a capire che un'esistenza evangelica nella quale si manifesta l'abbandono al padre è già presenza del regno è già manifestazione della vera potenza di Dio non della potenza del proprio uso e strapotere ma di quella di Dio che si mette a servizio e allora con l'Apostolo Andrea invochiamo quella croce salve o croce salve so bene che sei a riposo sei stanca perché sei piantata e mi aspetti sono venuto a te e ti sento mia sono venuto a te che mi hai desiderato e voglio far conoscere il mistero per cui sei stata piantata bene questa preghiera che mi commuove sempre quando l'ho mi è venuto da scriverla ho pianto e tuttora ancora mi commuove e ha commosso noi grazie grazie a lei veramente di cuore è stata un'immersione e nel frattempo ci ha raggiunto Don Fabio Pizzitola voi lo conoscete telespettatori che ci seguite oramai da un anno qui dallo studio di Trapani parroco della chiesa Santissimo Salvatore in Trapani ma soprattutto responsabile diocesano della scuola teologica io vorrei chiedere vorrei approfondire con Don Fabio la laicità del Cristo bene intanto è un piacere ritrovarci per me è un piacere essere arrivato anche per un semplice saluto al termine di questa trasmissione con gli amici di Campobello di Mazzara tutti intervenuti in particolare con il parroco Don Nicola abbiamo fatto il seminario insieme quindi è davvero un piacere che sia qui a Trapani nell'occasione di questi preparativi ai festeggiamenti del Santissimo Crucifisso a Campobello di Mazzara ecco in quest'anno particolare che vede il restaurato Crucifisso di Fraumile da Petralia un'opera che diceva il restauratore dei primi del Seicento l'immagine della croce Gesù Crucifisso davvero si staglia nei nostri cuori nelle nostre menti e ci ricorda come il cristianesimo la comunità cristiana ha diffuso il messaggio del Vangelo proprio con una parola non religiosa che non appartiene assolutamente al vocabolario religioso ma una parola che è stoltezza per i cristiani ci ricorda San Paolo una parola che è laica non poteva esserci parola o strumento o circostanza più laica della croce appunto per salvarci Gesù ha scelto di salvarci proprio attraverso una dimensione una parola una situazione assolutamente laica addirittura è reputata un obbrobrio per tutti quanti perché lo sappiamo era la peggiore punizione che l'impero romano poteva infliggere agli schiavi agli ultimi alle persone che venivano fagogitate che venivano conquistate ai malfattori eppure questa parola profondamente laica perché fa parte dell'immaginario dell'impero di Roma fa parte del vocabolario persecutorio di Roma ecco diventa per noi motivo di salvezza Dio si serve di uno strumento laico per salvare ecco il mondo il cristesimo si diffonde ecco impone la sua presenza con la dolcezza proprio attraverso l'annuncio della croce ricordiamoci la leggenda della vera croce di cui protagonista fu l'imperatore Costantino se vi ricordate ma il tema della laicità della croce in realtà affonda le sue radici già nei Vangeli e in particolare nell'ultimo approfondimento dei Vangeli che si ha proprio con Giovanni il quarto Vangelo l'Evangelista Giovanni ci presenta la morte di Cristo soprattutto in una chiave proprio laica Giovanni giunge perfino a cambiare quella che è la cronologia dei fatti della passione della morte e della resurrezione del Signore tutti gli evangelisti concordano compreso Giovanni ma anche i sinottici concordano con il fatto che Gesù è morto il giorno di venerdì alla vigilia del sabato ma circa il giorno esatto il giorno preciso non c'è un consenso unanime infatti secondo la tradizione sinottica sembra che Gesù nella sua ultima cena abbia vissuto una cena pasquale ebraica quindi quell'ultima cena sarebbe avvenuta la sera tra il 14 e il 15 del mese di Nisan proprio alla vigilia della Pasqua ebraica e Gesù sarebbe stato messo in croce il 15 ecco per Giovanni invece la situazione è diversa se ricordate in particolare il sommo sacerdote e gli altri sacerdoti in quella mattina del venerdì per noi il venerdì santo in cui condannano Gesù conducono Gesù da Pilato se vi ricordate Giovanni ci diamo in particolare secondo cui i sacerdoti non volevano entrare nel pretorio da Pilato per non contaminarsi a contatto del pagano appunto del governatore romano e dei pagani perché ancora dovevano mangiare la Pasqua allora in questo caso avverrebbe che Gesù viene messo in croce un venerdì sicuramente un giorno appunto di preparazione del sabato ma che coincide con il 14 di Nisan e in ciò la morte di Gesù coinciderebbe con l'ora in cui al tempio gli agnelli venivano immolati sgozzati perché poi potessero essere arrostiti e mangiati nella sera di Pasqua ecco la laicità della croce nel momento in cui si consuma il massimo sacrificio il massimo atto di culto l'immolazione degli agnelli nel tempio di Gerusalemme in preparazione della più grande delle feste ebraiche Pesach appunto ecco proprio in quel momento Gesù mentre gli agnelli nel luogo più sacro vengono immolati Gesù vero agnello immolato per noi nel luogo più obrobrioso dirà la lettera agli ebrei fuori dalle mura addirittura della città santa non solo fuori dal tempio ma addirittura in un luogo completamente laico in un immondiziaio sul Golgota fuori dalle mura consumerà il suo vero sacrificio il suo vero sacerdozio sulla croce ecco che la croce è per la sua parola per la sua circostanza essendo un supplizio romano inflitto ai lontani agli schiavi ma anche per le circostanze in cui almeno secondo Giovanni avviene la parola della croce è una parola laica Gesù compie questo atto di culto laicamente fuori dalle mura addirittura fuori dal tempio ma questo atto laico diventa il più grande atto di culto che rifonda il sacerdozio rifonda la nostra possibilità di accedere all'incontro con Dio tutto questo attraverso la via particolarissima misteriosa che il padre ha pensato perché il figlio potesse redimere il mondo e salvarlo una parola dunque del mondo una circostanza un luogo del mondo allora la parola della croce è in particolare l'annuncio il messaggio che in particolare per la comunità Campobellese questo crocifisso restaurato di Fraumile da Pedralia insegna è che la chiesa sempre deve abitare i luoghi del mondo essere nel mondo anche se noi siamo in cammino verso la Gerusalemme dei Cieli nel mondo ma non del mondo parlare le lingue degli uomini ma portando l'unica parola che è il Vangelo della salvezza tanti auguri alla comunità Campobellese per questa festa grazie che si preparano a vivere veramente Don Fabio hai dato la giusta conclusione ad una trasmissione che aveva toccato diversi temi storici iconografici artistici restauro devozionali la famiglia ma così abbiamo dato anche quella nota teologica che ha completato egregiamente una trasmissione che sono felice di aver realizzato con te grazie a te Don Nicola Patti grazie grazie per la vostra accoglienza per questa opportunità ecco io direi l'ultima battuta la diamo per i telespettatori che ci stanno seguendo diamo qualche riferimento dove trovare il crocifisso come si chiama la chiesa la via la chiesa si chiama chiesa madre Santa Maria al presepe di Campobreo di Mazzara in via Garibaldi ecco lì si trova la chiesa che poi è l'origine di questo contesto urbano che è Campobreo di Mazzara proprio nasce da lì da quella chiesa e dal palazzo ducale che si trova di rimpetto la chiesa ma io volevo dare così anche un'ultima parola su Fraumile perché è bello pensare questo ragazzo che è dalla bottega del padre ha un po' preso i rudimenti dello scolpire del lavorare il legno e poi nella sua vita religiosa ecco porta questa esperienza nel cuore e la trasmette nelle opere d'arte che diventa anche un momento missionario perché come un padre predicatore andava da un convento all'altro a portare insomma gli insegnamenti Fraumile invece porta l'arte della scultura iniziando altri discepoli a quest'arte ad esempio è documentato che è stato anche a Salemi quindi Fraumile in Sicilia e anche oltre veramente ha portato questa questa quest'arte quindi vediamo come di questo ci possiamo rallegrare perché noi anche a Campobello abbiamo avuto questo privilegio di avere un'opera così importante grazie a Don Nicola Patti arciprete della chiesa madre di Campobello di Mazzara grazie a Gaetano Correnti che abbiamo ascoltato prima restauratore del santissimo crocifisso oggi conservato all'interno della chiesa madre di Campobello grazie al dottor Sebastiano Maggio qui alla mia sinistra presidente regionale dell'AGE l'associazione italiana genitori responsabile siciliano e grazie al dottor Enzo Larosa qui alla mia destra che ha rappresentato la comunità parrocchiale che sente suo giustamente il santissimo crocifisso oggi restaurato conservato nella chiesa madre di Campobello di Mazzara dove tutti dobbiamo andare e grazie a tutti voi per essere stati con noi fino a questa ora buona serata a tutti Buona sera Buona sera Grazie a tutti